Musica Ben trovati a questa nuova puntata di Adconsum Informa in studio con me Loredana Baldi di Adconsum Marche Ben trovata Loredana Grazie, ben trovati voi Parliamo di FIR, Fondo Indennizzo Risparmiatori notizia recentissima quella appunto che il Parlamento ha approvato l'incremento dell'indennizzo del 10% quindi si passa dal 30% al 40% ne abbiamo dato subito notizie anche nei nostri telegiornali raccontiamo ovviamente il pregresso per poi parlare di come si è arrivati ad ottenere questo incremento Sì, chiaramente ne parliamo ma anche perché cerchiamo in questa maniera era di informare il numero più elevato possibile di risparmiatori coinvolti allora il Fondo Indennizzo Risparmiatori era stato istituito per andare appunto ad indennizzare tutti i risparmiatori colpiti dalle crisi bancarie degli ultimi anni per quanto riguarda la nostra regione parliamo ovviamente soprattutto di Banca delle Marche e di Veneto Banca quindi tutti gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati quindi chi possedeva azioni e obbligazioni subordinate poteva presentare una domanda e questo è stato possibile fino a giugno del 2020 per ottenere un indennizzo forfettario questo indennizzo era per gli azionisti pari al 30% dell'importo diciamo investito per gli obbligazionisti era pari al 95% quindi quasi tutto e tuttavia è successo che il Fondo ha avuto una eccedenza nel senso che gli importi che erano stati istanziati non erano stati utilizzati tutti per erogare questi indennizi ma sono avanzati 500 milioni di euro ed è per questo motivo che le varie associazioni di risparmiatori e le associazioni di consumatori avevano richiesto al Parlamento di incrementare la quota di indennizzo che poteva essere presa appunto da tutti gli risparmiatori coinvolti per cui il Parlamento ha approvato finalmente il passaggio dal 30 al 40% quindi ci sarà l'erogazione ma solo per gli azionisti attenzione non per gli obbligazionisti perché per gli obbligazionisti avevano già preso il 95% quindi quasi l'intero importo investito però per gli azionisti che invece hanno percepito l'indennizzo del 30% ora verrà erogata un'ulteriore integrazione di un ulteriore 10% e la notizia appunto è questa un'ottima notizia come dico sempre per una volta ogni tanto diamo delle buone notizie ma siamo qui anche per informare su come quali sono le modalità per ottenere questo incremento del 10% esattamente allora la norma che cosa prevede prevede che la CONSAP provvederà all'erogazione del 10% quindi di questo ulteriore 10% sulla base delle risultanze già in essere quindi già in possesso della commissione tecnica e sulla base dei dati che sono già stati comunicati quindi che cosa significa che questo ulteriore 10% verrà erogato in maniera automatica senza bisogno di dover presentare un'ulteriore istanza quindi a tutti coloro che hanno presentato la domanda che hanno ricevuto il 30% in qualità di azionisti ricordiamo non obbligazionisti solo azionisti verrà erogato l'ulteriore 10% però perché siamo qui a parlare di questa cosa oltre che per informare le persone perché solamente in due casi si dovrà fare qualcosa allora prima di tutto se il risparmiatore ha cambiato IBAN perché ovviamente l'indennizzo l'integrazione del 10% verrà corrisposta con la stessa modalità con cui è stato corrisposto l'indennizzo cioè tramite bonifico bancario ovviamente la commissione tecnica la CONSAP è già in possesso dell'IBAN dei risparmiatori quindi effettuerà il bonifico su quell'IBAN perciò tutti coloro che hanno cambiato IBAN o perché hanno cambiato conto corrente o perché come è successo negli ultimi anni una banca è stata assorbita da un'altra e quindi il codice IBAN è cambiato per effetto appunto di questo di questo assorbimento in questo caso bisognerà comunicare alla CONSAP il nuovo IBAN come si deve fare? innanzitutto bisogna andare dalla propria banca e farsi rilasciare la certificazione IBAN perché bisognerà appunto inviare il documento della banca che attesta che al signor Rossi appartiene quel determinato IBAN quindi serve la certificazione IBAN rilasciata dalla propria banca dovrebbe essere la trasmissione non è ancora chiaro con quale modalità cioè non è chiaro se deve essere fatto secondo le prime anticipazioni sembrava che la trasmissione di questo documento dovesse avvenire esclusivamente attraverso il portale del FIR che è lo stesso portale utilizzato per la presentazione della domanda ora sembra che da indiscrezioni possa essere inviato anche tramite PEC siamo in attesa di una di un chiarimento da parte della CONSAP su questo punto ma la cosa più importante è che al momento c'è una scadenza che è quella del 31 luglio quindi la scadenza è estremamente ravvicinata c'è neanche un mese per effettuare la trasmissione della documentazione necessaria quindi invitiamo tutti coloro che hanno ricevuto il rimborso del 30% in qualità di azionisti delle banche che sono state appunto coinvolte dal crack a recarsi in banca farsi rilasciare la certificazione IBAN solo nel caso in cui è stato cambiato l'IBAN perché se il conto corrente è rimasto lo stesso già comunicato non c'è da fare assolutamente nulla se il conto corrente è cambiato bisogna andare in banca richiedere la certificazione IBAN portarcela perché per coloro ovviamente che hanno fatto la domanda tramite ADConsum portarcela perché saremo noi che provvederemo a inviare il documento alla CONSAB per tutti coloro che invece hanno proceduto autonomamente ovviamente anche loro avranno bisogno della certificazione IBAN se il loro conto corrente è cambiato e potranno utilizzare ripeto siamo in attesa di un chiarimento o il proprio accesso riservato al portale FIR o la PEC solo in un altro caso è necessario fare qualcosa cioè se il risparmiatore che originariamente ha preso l'indennizzo del 30% è deceduto in questo caso spetta agli eredi presentare o la dichiarazione di successione già presentata oppure una dichiarazione sostitutiva dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che il signor Rossi è deceduto in data e chi sono gli eredi legittimi presentare ovviamente anche la certificazione IBAN degli eredi legittimi qualora non sia già in possesso della commissione della CONSAP probabilmente non lo sarà e anche in questo caso bisognerà effettuare la trasmissione alla CONSAP quindi due soli casi in cui c'è da fare qualcosa o se è stato cambiato il conto corrente quindi ha cambiato il nostro IBAN in questo caso recarsi in banca a chiedere la certificazione o se la persona che ha ricevuto l'indennizzo è deceduta e quindi gli eredi devono presentare la dichiarazione di successione o dichiarazione sostitutiva ricordiamo che di Consummar che insomma ne sa tanto su questo argomento perché ha assistito oltre 2.000 risparmiatori appunto nella presentazione iniziale della domanda e quindi ovviamente sempre a disposizione Loredana non è tempo di andare in vacanza perché c'è questa scadenza del 31 luglio a disposizione nelle sedi territoriali appunto per quest'upgrade del 10% e aiutare ovviamente i consumatori ad ottenerlo io ringrazio Loredana Baldi di Adi Consummar che per essere stata con noi grazie mille io ringrazio voi volevo solo aggiungere che riguardo la scadenza del 31 luglio abbiamo o come tutte le associazioni noi con le altre associazioni dei consumatori abbiamo richiesto la possibilità che ci sia una proroga della scadenza perché la tempistica effettiva è estremamente ridotta ovviamente ne daremo notizia qualora ci fosse effettivamente la proroga assolutamente siamo qui a disposizione vi do appuntamento alla prossima puntata di Adi Consum Informa arrivederci a